Ciao ragazzi siamo in compagnia con Antonio Valente che è un nuovissimo campione di un nuovissimo sport che è il SAP che in Italia forse sta per nascere tu sei uno dei primi e poi parleremo di te dalla tua grandissima impresa. Poi abbiamo Max Bertanzi, vi farei un grandissimo applauso anche a Max perché è un grandissimo campione sulla musica, lui è un vocalist importantissimo e ha presentato in questi giorni il nostro campione Antonio Valente. Parlaci, prendi due parole per Antonio. È stato un grandissimo onore, un piacere riuscire a commentare in diretta nazionale questa impresa titanica su Radio Studio Più che sembra voce ufficiale del radio e anche di Aytown e sinceramente non ci sono parole per esprimersi quando un'impresa ha questa portata. Ho avuto difficoltà soprattutto nella parte finale a commentare la sua attraversa dei 100 km perché raccontare e spiegare una parte di calcio quando le immagini è facile. Riuscire a fare immagini alla gente cosa faceva il mio amico Antonio era molto difficile soprattutto nella parte finale quando avevo una busta sigillata che era da leggere quando eravamo sicuri che lui fosse arrivato in porto, io aprendo questa busta e ho letto un riferto medico. A quel punto ho avuto un problema emotivo e ho iniziato a commuovermi quindi sai quando riesci a esprimerti perché hai lacrime e c'erano gli occhi devi per forza spiegliare il microfono, bere un bicchiere d'acqua, aspettare 30 secondi e poi riprendere la diretta. In quei 30 secondi ho pensato che dovevo riuscire a comunicare a tutta Italia quello che l'ha fatto lui cioè aveva compiuto 50 km con una costola rotta. Quindi la voce mi trema tuttora, l'emozione è ancora visibile, guardate la pittella d'occa e da un grande potere derivano anche grosse responsabilità quindi ad arrivare a un microfono e riuscire a descrivere quello che lui ha fatto per me è strumentissimo con noi. Certo, poi noi di Hightown eravamo presenti e ricordiamo che Hightown è l'applicazione del Lago di Garda, noi siamo una start-up che si occupa di tecnologia e app. Antonio circa un mese fa è venuto da noi e noi subito l'abbiamo appoggiato sulla comunicazione. Anche noi abbiamo poco tempo ma quando abbiamo sentito l'impresa di Antonio subito ci siamo messi all'opera come sicuramente avrà fatto il nostro amico Max e così abbiamo fatto anche noi di Hightown e oggi siamo qui per sapere di più di te Antonio soprattutto per le tue nuovissime imprese che farai e che vogliamo che tu dica il nostro pubblico da casa quindi prendi anche tutte le parole per il tuo progetto. Volevo innanzitutto spiegare a tutte le persone a casa cos'è il SAP. Il SAP è l'acronimo di Stand Up Paddle. Diciamo è un nuovo sport in Italia ma all'estero è molto riconosciuto, si pratica su una tavola da surf abbastanza lunga in piedi con una pagaia. Diciamo è uno sport dove si utilizzano tutti i muscoli del corpo, è uno sport molto duro se lo si fa a livello di endurance a lunga distanza ed è uno sport che sicuramente può formare. Diciamo che sul lago di Garda e penso che nei prossimi anni ne vedremo tanti proprio perché le condizioni del basso lago portano proprio ad avere, a poter utilizzare questa tavola. Ricordiamo anche ai nostri amici che tu sei il primo italiano a fare questa impresa poi sul lago di Garda che è il nostro territorio. Sono il primo al mondo a fare diciamo un'attraversata del lago di Garda in solitaria, ho fatto da la riva del Garda partito alle 7 di mattina e sono arrivato a Desenzano dopo 11 ore. Come diceva Max ho voluto fare lo stesso questa prova anche se 10 giorni prima di fare la prova dopo 4 mesi di allenamento veramente intenso mi sono fratturato un accostro all'undicesima diciamo posteriore e i dottori mi avevano detto. Stai un po' meglio? No sto meglio, sto un po' meglio, mi mancano ancora due settimane per la guarigione. E io ringrazierei soprattutto per questa impresa e il tuo recupero anche che è qui presente, il tuo preparatore atletico che io inviterei, Simone, qui con noi, che sta sempre dietro le quinte dell'Antonio, ma è stato importantissimo. E quindi io farei qui anche un... Sì, io ringrazio Simone Serrecchia, diciamo che è il mio trainer, è colui che mi ha seguito in questi 4 mesi, è colui che ha reso una grossa fetta di questa impresa, la voglio dedicare proprio a lui perché mi ha seguito in tutto e per tutto, diciamo a livello fisico, di preparazione, mentale, sì, è stato determinante ed è stato colui che ha venuto in me dall'inizio quando gli ho detto... ho detto che volevo fare questa impresa. Certo, certo. Perciò grazie Simone, con buon'occasione davanti a tutti. Grazie a te. E quindi ragazzi, noi di iTown siamo sempre presenti, soprattutto con il nostro amico Max. Vorrei aggiungere una cosa, a me è che c'è molto il connubio di questo start-up, perché diciamo che è uno start-up, è uno start-up anche per questo fantastico sport che ho conosciuto, che si chiama SAP, in un mondo in cui ormai tutto è tritto e ritrito, è ormai conosciuto. Mi chiedo sempre, ma perché non c'è qualcosa di nuovo? E mi ha colpito e affascinato questo progetto di vedere crescere questi giovani italiani, perché ricordiamo che tutto è medita di questo, e quindi vedere che c'è qualcosa che si muove, e soprattutto sono giovani come loro, io ormai ho quasi 50 anni, che pensano e dico sempre cosa posso inventare, cosa posso fare, Antonio, si è andato con questo progetto, loro hanno inventato questa app, io sono orgoglioso di far parte di questo progetto con loro. Grazie Max, io concluderei con Simone, che cosa vuoi dire Simone? Io ringrazio tutti e alla prossima impresa. Dai, grazie. Grazie, grazie.